C'è l'altro lì, occhio. Alca miseria, come sparano! Io ho fatto fuori due, Andre. Distrutto uno. Distrutto. Fatto? Andiamo da lui, ora. Guarda, prendiamo anche il cecchino che viene o grande ora, eh? Da chi tal lui? Ma perché devi andare da solo, Tommy? Sempre. Ma stavo lutando. Eh. Finché ero qua davanti nel lago. Ok. Quello è botta, eh. È botta? No, no, non è botta. Gravi, insieme. Bravi. Un altro educa. Dove l'altro? Sì, ho fitto pulmelo e dove arriva. No, vaffanculo, mi ha spaccato il pulmelo. Da, troppo, porca puttana. Dove? Uno è qui. Lei che l'ha lasciato senza vita. Forse sta furando. Bravo, bravo. Vieni, tirami su. Ma qui dai lutto, non è quello di un po' di roba. Io vado a arrestare lui. Sì, sì. Tant'è qui sotto. Io risto, ragazzi. Tu stai fuori con il cecchino, eh? Dove è? Sopra, sì. Sì. C'è qualche borraccia? Ma qui c'è un choncazzo. Dome, vai del aprile al lutto, eh? Ok. C'è un choncazzo. Ora che ti indebite con me. Oh, no, no, per te un colpo a me. Siete indebite con me con il colpo di città. C'è il costo, ragazzi. Alri bunkeri, andiamo. Sì, guardiamo che c'è qui. Oh, c'è gente di vita a me. Arrivo. No, no, no. Dove, dove? È qui dietro. Ma è un ceofero, eh? Vai, buttalo giù. Ah, c'è l'altro qui. Fatto, a terra. L'ho fatto, Dome? Sì, l'ho ucciso. Vieni, c'è pompa viola, blu, scusa. Ce l'ho ucciso. C'è... Oro lì, anche i garba. Vieni, se c'è una cosa qui. Vieni qua. Oh, pigliate quello oro o no? Vieni, Dome. Aspetta tu, Dome. Aspetta tu. Oh, pigliate. Ecco, fatti questo, Dome. Bella la Thompson. E voi? Vieni, pigliate. Ho usato questa. Pigliate la Thompson. Eh? Se volete città la leggendaria qua. Mi ha fatto vedere gli scudini, scusa. Ah, vabbè, usano le mie tagliette. C'è un po' l'oro, dico. Oh, c'è il bunker, andiamo? Eh, infatti, andiamo ai bunker, ragazzi. Ma? Mendole, scusa. Eh, deve aprire il quinto. No, è già aperto, è aperto prima. Sì? Eh, ma ti ho detto, andiamo ai bunker. Poi ho trovato il chicchio che era a rompere i coglioni. Eh, forse è qui, vieni, è qui. Qui da me. Aui. No, porta tutta. Ah, 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 ah. Mi sono mandato. Beh, è la pompa del cendario del nonno. Oh, come senti qui? No, no, ma è serve il cecchino. Due mesi, vieni. Ah, perché non ce l'ho trovato? Il cecchino è qui? No. Non ce l'ha più il cecchino qui. Ma è qui il cecchino. Ce l'ha, lì. Questo non è il cecchino. Non ce l'ha più il cecchino qui. No, che belle persone. Vabbè, io me l'avo diso, vabbè. Non ce l'ho trovato. Ok, l'ha più di più. È vero, io voi senti il cendere. È vero, io mioon. È vero, io mioon. Allora Saltellando mi sembra che non ho preso nessuno C'è l'isola ragazzi E' qui da noi? E' vicino Qui Si va? Si va dai C'è le ali, c'è tutto Ma io non ho trovato un 50 Vaffanculo No, nemmeno io Almeno su da tutto Ma qui? Vabbè andiamo sopra Abbiamo la ciampe, c'è la ciampe qui C'è un 100 qui no? Tanto che c'è il fiume, va veloce dai Occhio, no, costruite! C'è il fiume C'è il fiume Arrivo Una tepia Dall'alto Hai di sei di là? Bene, fate 50 Andre E' qui eh? GG Andiamo all'isola va Non andiamo sopra Andre? C'è il fiume Tu hai scendiso Oh oh Somme No, ma dobbiamo vincere C'è gente all'isola Via, via, via C'è gente? Via, via Bene Dove si va? Oh 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 Eh, tu hai detto via Oh Venomale che sono sceso subito Sì 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 stanno scendendo Ma la terra ma sono senza vita Mi sparano Mi sparano dall'isola parca miseria una macchina me ne avevo messo una terra me ne avevo messo un colpo di bomba una sopra ce n'è una sopra attento nastrino dov'è qua qua è qui dentro bravo ce n'è uno qui e io eh oh arriva aspetta scendo da te jonathan cosi mi curi ce n'è uno io qui dove sei sta lì non so dove andato questo lo sto cercando ce l'ho anche io eh ok via che arriva la safe io non so dove andato questo occhio perché c'era uno qui ragazzo non so dove sparire occhio no nulla nulla falso allarme medici te jonathan te l'ho già dato tieni se lo do io tieni no l'ho già dato ti ha dato si si andiamo sopra proprio andiamo in alto ci siamo qui giù perchè mi fa cacare vieni qui giù vieni dove me dai siamo in 10 via avete colpi cecchino beh ce n'ho io ma vieni qui da noi però occhio andre ci genti ci genti ci genti ci genti chi è che a sparare qua sopra a parte andiamo di qua ragazzo andiamo in safe vieni chiusa qua di qua vai vai andiamo andiamo dove stiamo insieme siamo 9-4 eh appunto stiamo insieme si 4 team e 9 sono tutti sperpagliati ragazzi tutti li ho persi tutti li ho persi tutti li ho persi oh sparano come va? da dove sparano? sono lontano sono lontano nemmeno nel portello vieni 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 non ce n'è aspetta un altro già io l'ho presi poco fa ciao ci avete i cecchini? io si si madonna di dio mi è parte di diso ok non ti avvicinare non ci avvicinare non ci avvicinare non ci avvicinare non ci avvicinare come no? c'è un po' di loot c'è un po' di loot c'è c'è un po' di loot c'è un po' di loot oh merda e da dove? da qui c'è un po' di loot c'è un po' di loot terra terra già fatto quello bravo 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 ok c'è un altro ci c'è un altro dai più mi dai più bravo bravo lo sto prendendo da dietro bravissimo ragazzi manca un altro manca un altro allora noi 4 e 2 ragazzi siamo noi 3 contro 1 no mi conviene mi conviene che uso sembracenchine invece dell'assalto ecco c'è passi c'è passi ma dov'è? non lo so ho preso i passi e andrà dove ha costruito ecco qui c'è auto da me c'è passi non lo so vieni qui da me c'è passi ah si dove? e boh qua sopra non mi sono castrare dentro non riesci più ad uscire a questo lato qui dentro scappa dove sei? aperto l'ali aperto l'ali ma come lo facciamo? è qui occhio occhio dove? come? vieni gli ho fatto la mossa ahahahahah bella gli ho fatto la moscettina gli ho fatto anche tutti i medaglioni di figlio facciamo figliare gli ultimi medaglioni sono contento no bella la mossa finale bellissima ragazzi grazie